Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebi Meteo. Diamo insieme lo sguardo alla situazione meteo in Europa per la giornata di mercoledì perché se da una parte abbiamo delle nevicate sul comparto settentrionale ed orientale situazione molto diversa vicina alla nostra penisola dove regna l'alta pressione. Infatti entrando nel particolare i cieli saranno per lo più sereni o poco nuvolosi da nord a sud. Il dato significativo è quello che vedete a lato delle temperature minime sotto allo zero quindi gelate fino al piano, fino in pianura e temperature anche massime che si faranno sentire su valori spesso quasi invernali. Entriamo allora nel particolare del nord Italia. Vi confermo una situazione di alta pressione, stabile, asciutta e per lo più soleggiata qualche annuvolamento in più di poco conto in Liguria. Situazione molto simile anche al centro Italia. al mattino qualche nube in Abruzzo e poi entrosera qualche nuvoletta in Toscana anche qui di poco conto. Infine al sud la situazione sarà per lo più stabile ed asciutta. Qualche addensamento in più sulla Calabria dove arriveranno delle nevicate sulla dorsale fin sui 700 metri. Bello anche sulle isole maggiori. Per questo è tutto. Aggiornamenti sulla nuova app di Trebi Meteo. Grazie a tutti.